Il sindacato degli infermieri Nursing Up nei giorni scorsi ha sottoposto all'azienda sanitaria trentina alcune richieste al fine di garantire un adeguato servizio notturno al pronto soccorso dell'ospedale di Arco, che sta pagando gli effetti della chiusura del punto nascite. L'assenza del medico anestesista, ha commentato Cesare Hofer, reperibile dalle 20 alle 8 il sabato e la domenica e del ginecologo reperibile di notte non garantisce, a nostro avviso, un servizio di pronto soccorso adeguato e occorre lavorare su questo servizio fondamentale, che ha dovuto sopperire alla chiusura del punto nascita. I sindacati chiedono che il turno notturno infermieristico sia potenziato con la terza unità e vengano identificati anche i doni e i spazi aggiuntivi, perché attualmente spesso i pazienti devono sostare nei corrido doi del pronto soccorso. Infine, aggiunge il sindacato, deve essere potenziato il settore dei trasporti in ambulanza verso le strutture di Trento e Rovereto, per evitare uno stazionamento prolungato nella struttura arcense dei pazienti in attesa del trasferimento. Nursing App considera questi interventi urgenti ed improrogabili. Il direttore degli ospedali di Arco e Rovereto, Luca Fabri, dal canto suo, ha spiegato che alcune di queste richieste sono già state accolte.